Si tratta di una modifica epocale rispetto al regolamento precedente. L'ultima parola spetterà al Consiglio Comunale, ma quella modifica dell'articolo 12.2 del nuovo regolamento dei quartieri di Bassano, approvata a maggioranza dai presidenti di quartiere e presto al vaglio di via Matteotti, forse potrebbe davvero cambiare le modalità con cui si amministra la città. Il nuovo testo prevede infatti che il Comune informi preventivamente e tempestivamente i consigli di quartiere su ogni argomento che comporti trasformazioni permanenti del territorio, dai programmi delle opere pubbliche ai piani di viabilità. Questo migliora la qualità della vita in città, perché la partecipazione democratica è fondamentale per il bene della comunità. Insomma, il quartiere informato dal Comune informerebbe a sua volta i cittadini. Sarebbe la fine di decisioni o di lavori che modificano a sorpresa la città. Se l'amministrazione spetta al Comune, infatti, i residenti attraverso il quartiere avrebbero subito la possibilità di far sentire la propria voce e magari modificare qualche decisione poco gradita. Avete già in mente un primo ambito nel quale potrebbe trovare applicazione questa modifica del regolamento? Adesso penso che il prossimo argomento, come dire, di interesse sia quello della raccolta differenziata dei rifiuti, che partirà presso alcuni quartieri, ecco, in questo caso i quartieri devono essere coinvolti, ma perché? Perché devono essere coinvolti i cittadini, che la raccolta differenziata la devono fare. Deve esserci trasparenza nelle tariffe, deve esserci coscienza nel tener pulito anche i luoghi dove c'è la raccolta dei rifiuti.